Ora no Eccolo qui 2 ore Meglio ancora 1 ore e 43 Questa sarà un po' rognosa Sarà una bella sfida perché Contro un Apex ragazzi Sicuramente non ce la faremo Anche se Anche se Ci dirò In realtà dovrebbe funzionare la schivata Qua e vado tranquillo Anche se è un 274k Ragazzi se riesce Potrebbe essere uno spunto Per la copertina Come battere un Apex Però Devo essere fortunato Il toro stordisce Sì lo so però Infatti cerco di tenerlo sempre A bada Vediamo quanto riesco a tenerlo a bada E' una cassa da 600k E' una cassa da 600k Ragazzi Vediamo se Se riusciamo Mi conservo lo stun per il toro Però questo lo applico perché è un silence a tutti Ok Allora, targettiamo il toro e teniamo la bada Devo togliere sto maialazzo Prima che dia di nuovo un'altra Ok, il maiale è andato Teniamo a bada il... Oddio, non si è... Non si è stunnato il toro, ragazzi, ho paura Spero di avere qualche altro... No Ok, c'ho un silence Ok, per fortuna è entrato il silence Mi conservo lo stun Lo stun Beh, amico mio, adesso metto in automatico Mo' vedi che... No, no, scherzo Questo mi sta facendo paura e si è ricaricato Allora Continuiamo a ragionarla Guarda sto maledetto quanto... Quanto è tankoso Ci siamo quasi, ragazzi L'ho ristunnato per sicurezza Non lo faccio giocare Ho sprecato il silence Perché toglie il 15% di vita Che non è poco Ok Posso dire di aver rubato una cassa Ad un Apex E qui andiamo su ispirazione di Jack Sparrow Ricorderete questo giorno Come il giorno in cui avete quasi battuto Nasty Leos Super GG Apro...